Oggi, 24 aprile 2014, lo Stato italiano furtano già il nuovo governo. Signor Probelli, cosa ha da dire a sua risposta? Signor giudice, sono veramente rischiasuto, ma non potevano a partecipare. Sa che lei ci è reso complice di tutto ciò e rischia veramente grosso, signor Probelli. Signor giudice, ma è stato più forte di me? Allora, signor Probelli, ammette tutte le imputazioni a suo carico? Sì, signor giudice, ma io voglio collaborare con la giustizia, voglio patteggiare. Bene, ci dica tutto quello che sa. Sì, voi non potete capire, signor giudice. L'anno scorso sono state coinvolte una maria di persone. Quest'anno ce ne saranno ancora di più. Sarà un vero colpo di stato. Tutti lo stanno aspettando e ora è il momento che tutti lo sappiano. Sapete cosa, signor Probelli? Ce lo dica. Cosa vogliamo sapere? Signor giudice, il 16, 17, 18 maggio, assunizio, ci sarà la seconda giornata dell'esport. Oh mio mio! Sì, 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 sì.